E' iniziata la promozione dei campionati italiani di Atletica Under 18, che si terranno ad Agropoli dal 21 al 23 giugno prossimi. Ha preso il via ieri, in una delle due sedi naturali, ad Ancona, durante i campionati italiani indoor. Qui una delegazione dell'Atletica Agropoli ha allestito uno stand promozionale, per quello che risulta tra gli eventi sportivi più attesi del 2019 che si svolgeranno nella città cilentana. All'evento marchigiano hanno partecipato gli stessi ragazzi, categoria Under 18, che saranno ad Agropoli e che si sono aggiudicati il titolo italiano indoor, dopo il successo dello scorso anno, di cara il sindaco Adamo Coppola. Con i campionati italiani, juniors e promesse, siamo pronti ad ospitare quest'anno un altro evento sportivo di grande peso nel panorama dell'Atletica. Ad Agropoli sono attese per l'occasione oltre 3.000 presenze, tra atleti ed accompagnatori. Sarà una grande festa di sport, nella nostra che, grazie a tanti impianti sportivi, è divenuta nel tempo la città dello sport. Un modo per avvivare e dissagionalizzare il turismo, facendo leva su eventi che sono di grande richiamo. Sull'attività di promozione svolta, Angelo Palmieri, presidente dell'Associazione Atletica Agropoli, afferma, è stata un'occasione fantastica. Ringrazio la federazione per averci dato questa opportunità di promozione, che mette al centro un'idea organizzativa a 360 gradi, con un dato agonistico importante. Sono state tantissime le presenze e richieste di informazione, che stanno arrivando anche direttamente alle strutture ospitanti del territorio.